I giovani e la droga, due mondi che non dovrebbero incontrarsi mai, ma che purtroppo, dati alla mano, si incrociano fin troppo spesso e quando accade le conseguenze sono quasi sempre drammatiche. L'unica difesa può essere l'informazione, far conoscere ai ragazzi i rischi legati al consumo di stupefacenti e all'abuso di sostanze alcoliche, attraverso le parole di medici e uomini delle forze dell'ordine. E quanto è stato fatto ad Andrea nel corso di un convegno dal titolo Giovani, droga e alcol, l'importanza della prevenzione tra coscienza e incoscienza. Ad ospitarlo l'Istituto Superiore Ettore Carafa, dove gli studenti hanno preso parte ad una lezione speciale sul come salvarsi la vita, anche attraverso le storie di chi ce l'ha fatta solo per un pelo, come Giorgia Benusiglio, la protagonista di un docufilm che racconta l'incubo di una ragazza milanese che a soli 17 anni ha rischiato di morire a causa di una pasticca di ecstasy. Abbiamo voluto estendere al concetto più generale delle dipendenze il problema che secondo noi è molto più vicino a questa fascia d'età e non l'abbiamo solamente voluto affrontare per non risolverlo, l'abbiamo voluto affrontare per fare una proposta concreta partendo da un documentario che abbiamo avuto a disposizione che realizza proprio il caso di una studentessa, di una ragazza di questa fascia d'età che qualche anno fa per aver avuto l'occasione di poter sperimentare una sostanza particolare si è rovinata completamente la vita. Allora l'esempio di questa ragazza più il monito che ne deriva, i suggerimenti che provengono da esperti del settore tra cui anche quelli dell'ambito medico legale e quelli che riguardano anche l'aspetto tecnico, per esempio il mondo della giurisprudenza, ci aiutano a comprendere che questo fenomeno non è limitato soltanto alla persona ma coinvolge la famiglia, coinvolge il sociale e coinvolge persone che probabilmente hanno un rapporto indiretto ma purtroppo fondamentale nella vita di queste persone. Tanti, troppi, gli adolescenti ma non solo loro che soprattutto nel fine settimana vanno alla ricerca di divertimento artificiale assumendo sostanze stupefacenti o abusando di bevande alcoliche. Una situazione allarmante, testimoniata dai dati che anche a livello locale dimostrano come l'età del primo bicchiere sia sempre più bassa. Abbiamo a 12 anni molti ragazzini che si avvicinano alle sostanze alcoliche. Se poi a questo ci aggiungete anche alcune metodologie che purtroppo abbiamo importato, pensate all'epi-hour, quindi il consumo di sostanze alcoliche seppure a basso contenuto alcolico ma in situazioni di digiuno su ragazzini minorenni che quindi non hanno ancora acquisito la capacità di eliminare come l'adulto la questione alcol, la situazione diventa veramente drammatica. Quindi anche una birra bevuta su uno stuzzichino diventa molto pericoloso per i ragazzi. Grazie.